ciao a tutti benvenuti nel mio canale dedicato modellismo dinamico io sono issam e oggi vediamo una trasmittente video molto interessante della speedy villa tx 800 perché è molto interessante perché pesa pochissimo ha una potenza di trasmissione variabile a 25 millivatt 200 millivatt 400 millivatt e fino a 800 millivatt in un form factor molto piccolo con un dissipatore molto efficiente e di questo form factor con delle proprietà di questa trasmittente con 800 millivatt veri ce ne sono veramente pochi nel mercato che costano così poco e questa potrebbe sembrare solamente il dissipatore invece è il dissipatore e anche la vtx che pesa con il dissipatore solamente 5.6 grammi con un connettore mmc x quindi connettore solido abbiamo anche la possibilità di connettere la vtx via connettore jst che è incluso nella scatola un cavetto con connettore gesti eventualmente se vogliamo saldare direttamente i cavetti sul flight controller e connetterlo da questa parte in alternativa se nostro flight controller ha già un cavetto jst possiamo solamente infilarlo in questo connettore in alternativa abbiamo la possibilità di saldare direttamente i cavetti da questa parte connettere quest'altra parte al nostro flight controller o prendere i cavetti con connettore speciale del nostro flight controller e saldarli qui quindi abbiamo due opzioni molto pratiche nella scatola abbiamo anche un'antenna polarizzazione lineare omni direzionale con connettore mmc x eventualmente se vogliamo mettere la nostra antenna con connettore sma a proposito questa vtx supporta anche il pit stop mode quindi possiamo metterla a bassissima potenza per cambiare banda canale eventualmente potenza senza disturbare gli altri non solo abbiamo anche l'irc trump infatti come potete notare possiamo connettere l'irc trump al nostro flight controller qui e cambiare banda canale potenza direttamente tramite i nostri occhiali rfpv i nostri stick della radio l'unica pecca di questa vtx purtroppo è che si può alimentare solamente da 3,7 volt fino a 5 volt quindi non possiamo connetterla direttamente alla batteria del nostro drone o il nostro aereo e qua abbiamo la connessione in entrata 5 volt positivo negativo rc tram video in dalla nostra telecamera e alimentazione filtrata 5 volt 1 ampere eventualmente per la nostra telecamera sul dissipatore abbiamo un adesivo termoconduttore già installato e per quanto riguarda la dimensione della vtx e 28 mm x 28 mm e la distanza tra un foro e l'altro e standard da 20 mm x 20 mm e come solito vi lascio il link e coupon sconto a questa trasmittente video molto interessante nella descrizione del video se avete delle domande lasciatele giù nello spazio commenti nel frattempo vi saluto e ciao alla prossima